salve a tutti questo è un video dove ho intenzione di annunciare che molto presto porterò sul canale perché mi va un video dove essenzialmente unirò questi tre prodotti mortadella pan carré e cioccolato fondente e mi mangerò varie composizioni di questi cibi però potrebbe essere una truffa effettivamente quindi gli ingredienti sono stati messi si possono vedere benissimo avvicino pure il cioccolato fondente qua così il primo morso è il suo mi interessa vedere come mastico come vedete il cioccolato è stato mangiato questa scena sarà un po schifo ok scusate però magari pensavate che aveva nascosto il cioccolato con la lingua da una parte non si sa mai io c'è quello di armi i capelli ho la maschera quindi come ragazzo faccio e niente ringrazio per la gentile attenzione di chiunque guarda questo video ho attenzione di portarle questo è un piccolo assaggino ho attenzione di fare un video un po più lungo